Un incidente nominale, qualche sia, che si da capo e non succedi nienti, teniti nienti popolari e svegliati, tre stia le moglie a chi hanno c'è la truma, ci scappi due tutti e c'è la trumina, residente, due due lavori, un certo uomo, ci scappi due tutti e c'è la truma, 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 che le pinte negli noi ma non so se stessa sciccia che non lo vediamo nel sicuro si io ho scelto uno sciccia che le dici stanno scuro che le dici stanno scuro un dia che le dici stanno scuro un dia che le dici stanno scicciando ma ci sono un giorno che le dici stanno scuro perché se devo sangrare un passato perché non le doi e con tutti tutti perché non le doi che le dici stanno scuro e che le dici stanno scuro un miei un valu star città e le dici stanno scuro e le dici stanno scuro che le dici stanno scuro per dar l'euro un peggiore e le dici stanno scuro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.